ragazzi scusatemi se vuoi fare una pizza buon appetito e orario? ma non faccio pure una pizza cosa è una faccio pure una pizza? ma quanto hai fatto? 4 euro 5 euro? 4 euro 5 euro? 65 euro pesca mizzi del creatore 65 euro? 65 euro? su una pizza? no ma non ho un cartone ecco è un cartone a world disney figliarani e la mizzi del creatore e ma scusa ma quanto hai dato di marcia? 15 euro 15 euro di marcia? ma di marcia di solito ci dà 1 euro 2 euro eh? la mizzi del quattro è di 5 euro la mizzi del 65 euro è minimo un 200 euro 3 minuti del bucchiere per lo snobino la capri ma non è così io la pizza ma la faccio io sai come faccio? va con una pizza in Spagna a pomarola di 57 euro l'acqua parito e con pochi euro ti fai la pizza che avevo tu vi sed becoming spagna ma che è se mi serve spagna ma che è il suo, mi serve creatore è mi serve spagna ma mi fa chi è questo il suo, mi serve spagna ma che è il suo, mi serve spagna anche il suo, mi serve spagna è molto importante sai cosa che sia il tuo, mi serve spagna io non mi piace a questo che è lui? che è il suo Flavio, il bisogno se non ha detto come mi aspetta che parte ah ma ma non la mia ah 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 non mi sape di essere spagna a me un syntax ma di 66 e senza chene Grazie.